non piazzare o distruggere blocchi se non ti viene richiesto puoi piazzare le persone sul sul blocco di diamante va bene ragazzi sono legato per il parkour ma io lo faccio solo perchè io voglio bene non è che oh no ecco ecco tum 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 ok e iniziamo e come stava di vabbè qui non ci sta più il libro sti cazze ok qui tipo se tengo premuto shift si sa che questa è art test ok se salti al limite riesci a farlo no che cazzo ho fatto oh mio dio ce l'ho fatta un po' stardeva porca puttana no ce la devo fare io eh ragazzi non stoppate il video eh almeno vedete nei 5 minuti tipo se salto di qua ma guarda qua che coglione non lo sapevo sta cosa guarda qua io che ah no questo l'odio questo era quello con shift raga eh si si ok shift shift vai ok ragazzi livello 2 facile si può dormire no eh ok e oh no 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 lo sapevo che dovevo morire vabbè raga vi taglio il pezzo bella ok ragazzi ecco qua ci siamo benissimo ok no 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 minchia mi confondo subito ok eh no no oh lo so 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 ok ok oh oh mi ha saltato lo spawn me l'ha saltato qua lo spawn benissimo quindi eviterò di tagliarvi eh io non ho capito una cosa ma che cazzo serve sta coserà cosa ma non è che magari aspettate eh ragazzi ma guarda sto no 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 ma perché ma perché io ma perché ci gioco oh mio dio ok 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 shift s ok 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 adesso io come minchia non dimmi che devo andare a finire là sì perché giustamente avrebbe senza la cosa o la o qua porco il cazzo dove va ecco e non mi ha saltato e che cazzo volete di più va bene ci sto riprovando non vedo gli pezzi perché tanto non capireste ok volpix non si spaventa più adesso ok guarda senza shift eh ok avete visto che senza shift ce l'ho fatta pure ok eh no perché non mi salta addio tantissimo eh cercare di fare una cosa tipo non incredibile ma lo so sempre incredibile qui no va bene vado il sole vado la fa un culo il sole pure porca di quella puttana porca di quella puttana non so quanto verranno ecco mi confondo è inutile ragazze non so quanto verranno lunghi ste periodi ma sinceramente non mi interessa un cazzo più tanto ormai sono sono morto la mia vita non ha più senso molesto puttana porca puttana porca puttana sì e che cazzo non ti può aggare pure da nuve io immagino ricadevo là là dietro e mi stavo lo spawn e là col cazzo che ricominciavo allora sicuramente devo fare ecco ma era là ragazzi io vi giuro che era là era là che dovevo andare ok ma che cazzo no no bastardo e che cazzo non vedi taglio sti pezzi non mi può parkour ve la do così per estesa ecco qua ve la do così per estesa porca di quella puttana troia porca di quella puttana troia e che cazzo ora basta eh ora guardate che volpix fa tutto ecco no no perché ho lasciato w perché non ho lasciato w bastarda maledetta puttana troia ok 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 ciao cioè no ma perché porca dio santissimo non gridare volpix che sono le 2 e 07 ok minchia ecco dove cazzo vado oddio ma no qui è più oh mio dio mi addirà oh mio dio qui posso saltare ancora ma eh non so se questo è più alto vabbè no 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 mi son dimenticato mi son dimenticato mi son dimenticato mi sta a riprovare oppa gamna style ok ok io non so fare doppie salte quelle là ok ok minchia guarda questi cubi qua niente servivano bastardi troll di me no no invece servono qualcosa forse no no io non ci credo che non serviva niente no no shift avevo premuto shift avevo premuto crampezza di troia sto figlio della mignota che poi i feedback che lasciavano i feedback che lasciavano dicevano che questa mappa era troppo facile e che dovevamo fare o o le persone che hanno scritto su sto feedback che sono accaniti di parkour e ne hanno già fatti peggio di questi o anzi meglio di questo peggio di questo come volete dire e quindi gli sembrava facile oppure era proprio perché era facile no beva io mi arrendo mi arrendo sono 25 minuti che sto registrando sta cazzo di puntata e vi dico pure un'altra cosa domani che cazzo è domani è giorno 2 di gennaio dando buon anno a tutti avevo fatto una vlog ma ve lo rifaggio e oggi sarebbe giovedì se non sbaglio sto video ve lo devo caricare per oggi ok se sono le 2 di notte io c'ho un processore del core i3 fatevi il conto che io ci sto un'ora e mezza per renderizzare un video dovrei stare qua fino alle 3 e al fino alle 4 meno 20 ok vai no bastardo no 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 so stare a prova so stare a prova perché porca puttana no non è giusto io devo vincere no ok fermate ecco qua ora sicuramente mia madre verrà e mi dirà c'è che devi fare silenzio Marco ecco ecco mamma sto facendo silenzio cosa volete di più e poi notate che quando morite tipo il rumore è molto più più basso tipo se non muovete il mouse rispetto a prima vabbè poi ve lo faccio sentire ve lo faccio vedere oh mio dio ho aperto il calendario ehi se vabbè il calendario e vabbè si dice che è l'anno nuovo però direi calendario mi sono un po' esagerato no e mi verrebbe che ve lo tagliasse questo giusto ragazzi perché non che ve lo taglio tutto tipo perché fare tipo ricominciare sempre da qua poi fai questo poi fai questo se ci riesci se ci riesci se ci riesci non è mica detto che ci riesci sono avete presente proprio quando mi rompeve i coglioni porca puttana la stessa cosa proprio in questo momento in questo preciso istante oh oh perché perché cosa ci ero andato a fare là no 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 raga io sono qua da 47 minuti se questa volta porca il cazzo non riesco a farcela stoppo stasera non la continuo più e potete potete mettere tutti i cazzo di non mi piace che volete perché mi sono stoffato dice pure la signora che bella oppure no 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 ok raga io li farò un botto ma proprio voi ok metto il mosso così oh e ce l'ho fatta si mosse ok basta io concludo qua dormendo ah beh d'accordo che deve essere notte comunque ok basta e ragazzi se questo video vi è piaciuto invita lasciano un bel mi piace non so quanto è stato sto video ma sono 47 minuti che sto registrando solamente a fare questi due livelli che qualcun altro posto mio l'avrebbe fatto in 5 minuti e io vi ringrazio per la vostra gentile attenzione quindi pollicione su commentate condividete il video se vi va e noi ci vediamo sempre al prossimo video dal vostro Mr. Volpix 97 ciao ragazzi al prossimo video bella